Buonasera amici, vi porto con me il mio quarto giorno di dieta. Come sapete, se mi seguite già da un po', ho ripreso il piano alimentare che mi ha fatto perdere 30 kg in un anno. L'obiettivo è proprio perdere altri 30 kg in un altro anno. Questa mattina ho optato per la colazione salata, semplicemente con una fetta di formaggio e due fette di pollo e latte. Per spuntino una pera, 5 noci, sopra alla pera ho messo un po' di cannella e un pochino di miele. Buonissima, così, veramente ottima. Una merenda coi fiocchi. A pranzo, ci ricordiamo sempre acqua, io dico acqua a pranzo ma durante tutta la giornata l'ho bevuta l'acqua. A pranzo vi siamo fatta il riso integrale con un sughetto semplice con melanzane e qualche oliva. E poi due foglie di insalata con un uovo un po' strapazzato, diciamo. Mi è venuto un po' male. Un uovo, basta. Come spuntino ho i chips di lenticchie. A cena ho fatto un piatto unico. L'ho fatto anche per il mio venito. Spaghetti integrali con gamberi, spinaci e pomodorini. È una ricetta buonissima. Provateci. Dio. 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 Grazie a tutti